E' partita la procedura affidamento lavori per la realizzazione del raddoppio dello svincolo autostradale di Baveno della A26 in direzione Domodossola. Lo comunica il sindaco bavenese Alessandro Monti. La comunicazione ufficiale è giunta in questi giorni al Comune d'Autostrade per l'Italia. Purtroppo questo bando, spiega il sindaco Monti, è in ritardo a causa della sospensione da parte di autostrada del bando di gara negli scorsi mesi a causa dell'emergenza Covid. A oltre 25 anni dall'inaugurazione dell'ultimo tratto della A26 a Runa Gravellona, prosegue il primo cittadino, finalmente il raddoppio dello svincolo diventerà realtà e andrà ad alleggerire la grande mole di traffico diretto in ossola che oggi dal lago va a riversarsi, soprattutto tra Fondotoce e Gravellona. Come amministrazione monitoreremo attentamente, in contatto con Autostrade per l'Italia, il corretto andamento delle procedure e successivamente dei lavori per la realizzazione dello svincolo, con la speranza, conclude, che l'opera venga eseguita in tempi più ristretti possibili, per avere, quanto prima, un'infrastruttura così strategica e necessaria per il nostro territorio.